Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo video Siamo qui per la 41esima puntata se non ricordo male di Mad Max Scorsa volta abbiamo aperto delle valvole di gas rischiando anche la vita Girando per i cunicoli nascosti ed entrando anche a Gastown Perciò proprio siamo entrati, abbiamo messo piede dentro Gastown Ora abbiamo un'altra missione e siamo qui per questa missione Quindi qua se l'uomo mi ha promesso bisogno, devo iniziare la missione Parla chiaro Il ha orchestrato il gas che si è tornato per scoprire la piazza Under mio cuore, ha prenduto il artico sagrato E con la fia, ha scoperto il vero e scoperto il vero e scoperto molti di mio figlio di fattato Trazzi, eretici Ho bisogno di questa piazza di piazza, io ti darei ciò che posso se volete L'architetto ha spento il gas A di nuovo questo gas Per raggiungere la fiamma pilota E la rubata Trovala e riportala a Deep Fia Sblocca il potenziamento Torce incendiarie per i bruciatori laterali Ma che me frega bruciatori laterali Mi voglio il vuoto Questo è già questa roba qua Nell'ora più oscura il credente Che si erge sulla sacra sabbia Vedrà la vera luce Sì, fammi vedere dove ragazzi Leggi la scritta Raggiungi il tumulo bruciante E perlustra la zona Vai dai il comandante Sì, sempre se compare la cosetta Ovviamente non è comparsa A meno che non sia in queste zone qua Deserte Ma per il momento Ah, c'è un bug Questo gioco qua Che ti fa perdere il tempo Come la scu... Ah no, volevo qua Perché se no Ti tiravo anche a 4 Bene, andiamo lì A recuperare questa fiamma Questa torcia pilota No, non conosco Eccunilo bene Dobbiamo essere lì Quando è buio Beh, niente nemmo là Se dopo fa buio Se no Aspettiamo che arrivi a buio Che dire Usciamo intanto Da questa regione Allontaniamoci da Gastown Eh, finiamo prima Il tutto di missione qua Di tipo FIA E poi Passeremo A quel pallino verde Che ci aspetta Sarebbe stato bello Avere questi potenziamenti Con Con però Gli avversari Che avevamo all'inizio Ragazzi Proprio E le prime missioni Con le mezze macchinette Che Aver avuto anche solo Un arpione Ci avrebbe Salvato Mentre adesso Basterebbe sfiorarli Appena appena Per distruggerli Eh, vabbè Faccio qua Che andiamo a tornare Faccio un po' di strada Poi ritorniamo Quando Quando sarà il momento Ci siamo Ma È giorno Perciò Questo obiettivo È disponibile Solo di notte Beh, aspettiamo qua Che Vengia scuro Eh Altro non si può fare Uh, non è neanche Corazzato Vi rendete conto Ragazzi Che Quale prova Sta Ha cercato Di affrontare Ti distruggo la macchina Giusto Beh Ecco Così mi prendo 4 più 6 Ruttanti Disponibile su di notte Aspetteremo che arrivi la notte Ragazzi Perché Tanto altro Non Non si può fare Perciò Eh ragazzi Che più piano Sta facendo duro Sto aspettando Mezz'ora Per sta missione Qua Amari Per fare un video Dei 10 minuti Intanto Mi sto Divertendo A distruggere Auto Desta e sinistra Ho fatto fuori Anche qualche Qualche punto Di sciacallaggio Insomma Faccio qualcosa Per passare il tempo Perché Sennò qua Non passa più Devo aspettare L'ora più scura Che c'è sto su E qua Che ha messo Esattamente 40 minuti In andar solo Momenti Eh Se ne iniziavamo La missione Che era già sera Uno dice Vabbè È già sera Siamo a posto Non si affettua 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 E Vabbè Quindi Aspetteremo ancora Che arrivi Guarda Adesso Arrivai in nuve Il sole è ancora là Ancora scende Un altro po' Avanti Pensavo fosse una cosa Più rapida Ma arrivavamo Qui E automaticamente Cioè Ora che arrivavamo Qui Si faceva Notte Pensavo fosse Una cosa calibrata Invece Mi tocca aspettare Vabbè Pazienza Bene Forse è abbastanza buio Proviamo a vedere Si Finalmente ragazzi Ho perso Un'ora Del tempo Dai Non venghi giorno Perché dopo Si Mi gira La cosa Ho visto Che la fiammetta Dove è Allora Guida fino All'accampamento Dell'architetto Cioè Tut Mi ho perso Molto del tempo Per dire Guida fino All'accampamento Dell'architetto Guarda Non ho parole Ragazzi Non ho parole Vabbè Andiamo Adesso Registro Pure il percorso Che tutto il tempo Che ho impiegato Almeno sia Ripagato Perché Che miseria E' mio affare Che venivava Si entrava In una Fortezza Il tempo Automaticamente Cambiava Cioè Mi hai da metterci A capirsi Adesso Non c'è che abbia Tanto tempo Da impiegare Prima Non passava Nessun Che Tutto il tempo Che volevo Ragazzi Per far fuori Chiunque Ora Cioè Da quanto ho girondolato Guardate Dov'è finita La La Il gasolio Praticamente Tra girondolamenti E Vari E quant'altro Dov'è finita Dov'è finita Di epi e parla Va Dai c'è un bucket Giusto Perchè Quasi Spara ancora un po' Ho detto Merda Dai Giusto Ve l'ho gettato Che hai gli attrezzi Nuovi Guarda Guarda Che velocità Un lusso Magari Averlo avuto Anche prima Di momenti Più Bisognosi Un altro Ora Anche questo Eh Dai che andiamo Un altro Qua Hed Hed Quattro due Ciao ciao Bine Non dobbiasi C'è ne altri N'yemo Dai 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 subito ora con piacere ho avanti a manetta adesso aspetta un giusto di acqua perchè se no partono svantaggiato ragazzi giusto per sono qui buongiorno tadaaa c'è così ti impari di rubare a fiamma te che altro che dopo mi manda a me e io metto che aspettare un'ora e mezza perchè vive buio su un gioco quando che l'ultima ginocchiata è quella con la forza bruta perdiamo un po' di tempo a recuperare recuperare qualcosina almeno guadagniamo un po' di rottami dato molto tempo utilizzato per questa missione qui era un'altra ah no riflesso sembrava l'azzurro dei rottami andiamo avanti prendo un'arma giusto per non si sa mai chi troviamo sono qui tadaaa ah questo quasi l'architetto forca bestia quanti chiazza sono oh ehi tosso lea aspetta aspetta ma qua non se capiamo altro che se chi che arriva che se chi che arriva in carica, che se un altro che oh bestie si c'è un altro e qui che hanno scudo ragazzi ma orientati di basta porca miseria si è più duri da quando sembra devo concentrarmi allora sto fuori con calma intanto questi due qua il problema è che questi qua corrono cazzo cioè di notte non 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 affrontiamo che cazzo del morisione Ehi se sarà bugato qualche sound èissimo Almeno ci danno Un po' di rottami Che ci serviranno per il ruoto Cazzo di istruzione Questa fase io Là Poi ci sono fuochi per aria Gaverne e quant'altro Bene direi che possiamo anche andarcene Non dovrebbero esserci più missioni Qua da deepfriar Quindi i prossimi saranno Lì Quindi direi Possiamo anche andare via Testo opposto Alla Bene ragazzi Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like Vediamo la prossima volta cosa ci sarà da fare Penso già di andare il pollino verde A meno che non saldi fuori Qualcos'altro Ora andiamo qui Magari Vediamo se ci Fa qualche discorso Qualcosa Se c'è qualcosa Da fare Ecco qua Bene Sì sì Andiamo fuori Vediamo se c'è qualche fiamma in più Sulla All'esterno Sì vedete ragazzi Che cazzo Guardate la fortezza Guardate la fortezza No No Volevo potenziare Qualcosina Dato che ce li abbiamo 500 rottami Potenziamo E così Gli armamenti ce li abbiamo Al top di gamma Se erano gli armamenti No Niente Era fuoco Brucciato i laterali Non so A niente Bene Ciao a tutti Alla prossima Ciao ciao